Tutto pronto per il gran ballo finale. Suda le proverbiali sette camicie, forse anche qualcuno in più, Sir Safetikon Adperugia, che però alla fine supera in 4-7 al Palabarton un'ottima con Sarravenna nei quarti di finale di Coppa Italia di Superlega e stacchi il biglietto per le Final Four di Casalecchio di Reno in programma nel fine settimana. Match combattutissimo, quasi sempre sul filo dell'equilibrio, con gli ospiti di coach Bonitta che se la giocano con carattere e qualità tecniche, mettendo in mostra un super recine capace di far registrare 20 punti con 2 muri e 3 ace ed un sistema di gioco ordinato ed efficace. Perugia, con coach Einen che lancia dal primo minuto i rientranti a Tanajevic e Russo, va a strattoni, sbaglio un po' più del consentito come dimostrano i 34 errori gratuiti contro i 16 degli avversari e va sotto 25-27 nel primo set, ma il merito di restare sempre attaccata al match facendo leva su servizio e muro, anche se, secondo e terzo set, si decidono i vantaggi, entrambi per 26-24, prima del 25-21 che chiude la partita. Performance da applausi per Solè, che mette a terra 16 palloni col 71% in primo tempo, top scorer il solito Leon che chiude con 25 punti e 5 ace, ottima prestazione offensiva anche per Plotnischi con 19 palloni vincenti e 4 ace e 17 punti anche per Capitan Atanasievic. Tre muli vincenti per Russo, tornati in campo dopo tanto tempo ai box, mentre i veterani, Colace e Travizza, tengono dritta la barra del gruppo nei momenti difficili. È importante vincere, sicuro, 3-1, 3-0, 3-2, tutto è buono per noi, Raven è giocato bene, quando loro vince, loro è benissimo, è perso, nessuno dice qualcosa, perché loro ha giocato oggi e è bene. L'importante è andare alla Final Four, è una partita difficile, loro hanno difeso tanto, noi ci siamo innervositi subito, è una cosa che non dovevamo fare, dobbiamo mantenere la calma, anche perché le sfide che verranno saranno sicuramente lunghe e difficili, però l'importante è aver vinto, adesso pensiamo subito alla Final Four. Dunque fa ripuntati sull'evento bolognese che assegnerà la coccarda tricolore. Sabato si parta alle 15.30 con il duello tra Lube e Civitanova, che ha regolato tra 0 Chione e Padova, e Leosius Modena, che ha superato Vero Monza con il medesimo risultato. Quindi alle 18 toccherà ai Bianconeri di Eynian calcare l'Unipol Arena per sfidare nella seconda semifinale Itas Trentino, che ha battuto tra 0 Allianz Milano. Le vincenti delle semifinali daranno vita alla finalissima, fissata per domenica alle 18, con Perugia decisa a riconquistare quel trofeo già alzato al cielo nel 2018 e nel 2019, e sfuggito lo scorso anno solo al tie-break contro la Lube nell'atto finale. Sarà la Final Four forse di livello più alto negli ultimi anni, abbiamo quattro squadre che tutte e quattro possono vincere, noi giochiamo se in finale contro Trento, sono convinto che tutto dipende da noi, se giochiamo come sappiamo giocare avremo la possibilità di andare anche in finale.